Mi chiamo Maria Cecilia Verame, vengo da Genova, sono socia di Quinta di Copertina, che è un service digitale editoriale che si occupa di divulgazione della scienza, della tecnologia e di formazione. Sono venuta a Bit of History per parlare, per ragionare sulla condizione, sulla situazione delle donne in confronti della tecnologia, della programmazione e della robotica, tenendo conto del passaggio fondamentale della formazione e quindi degli strumenti che vengono dati all'interno della scuola perché anche le donne possano in futuro interessarsi e approfondire gli studi in questo settore. Grazie a tutti.